Liberi TV Buongiorno a tutti D'amore, di passione Intensi, così veri E speriamo che riusciamo a trasmettere Con questi tre minuti Tante sensazioni, emozioni Secondo me il tango è proprio Il ballo adatto Proprio per i motivi che lei ha illustrato Per questa serata Devota e devoluta agli altri Ecco E il tango è un qualcosa che unisce Che ha questa magia Per me sì Io faccio il tango da vent'anni Collaboro con Paolo Garzia La mia compagnia L'occuratango Anzi io voglio Approfittare C'è la nostra assistente Merimeo Che non ci abbiandona mai E che cosa dire Buona serata a tutti Sentiamo questa musica meravigliosa Del nostro maestro Grazie Partiamoci col tango Viva il tango Giuseppe resta un attimo con noi Grazie Allora intanto Allora devo dire che tu In ogni occasione Cerchi di dare un contributo Con la tua splendida voce Che è una voce che si libra nell'aria E che arriva a portare i messaggi Che siano di pace o di solidarietà Quanto è importante esserci? Assolutamente questa sera Per me è un grande onore e piacere Innanzitutto essere qui In una location meravigliosa Come il Grand Hotel El Cersior E essere stato scelto Dalla nostra Bianca Maria Lucibelli Per questo galà meraviglioso Che veramente è un fiora l'occhiello Insomma per la nostra capitale Nel mondo Quindi io sono contento E onorato Contento anche di rivedere te Cara Camilla È sempre meravigliosa La musica appunto unisce Che sia danza Che sia il canto Noi siamo qui per portare un messaggio Questa sera porterò un messaggio Del bel canto italiano E quello napoletano Bravo Grazie a Giuseppe Gambi Grazie